Ragazzi, eccoci qua, ben ritrovati, ciao a tutti, come state? Spero tutto bene, buon lunedì, avete trascorso un buon fine settimana, ovviamente per tutti i tifosi della Juventus immagino extra calcistico perché da venerdì la mia mente si è concentrata soltanto su quello che è stato un po' l'umiliazione che abbiamo subito nei confronti del Napoli e mi sarebbe piaciuto iniziare questa settimana in modo più carico, in maniera più decisa, guardando la classifica con un occhio differente e invece siamo qui a dover fare il discorso completamente opposto, perché? Perché ieri comunque ho pubblicato un video che ha un titolo forte ma anche una motivazione dietro, forte mi dispiace soltanto aver visto diversi commenti che non hanno capito il motivo del titolo e non hanno capito il punto focale del discorso, sono andati in direzioni un po' così sfarfalline diciamo la verità, però ovviamente ognuno poi capisce quello che vuole capire o che capisce effettivamente perché magari mi sono spiegato male, io lascio aperta qualsiasi possibilità però non era assolutamente quello il messaggio di fondo che volevo passare e ringrazio anche tutte le critiche costruttive che sono state lasciate sul canale di Tutti i Teorici perché ieri comunque è uscito il primo episodio insieme a Seekwolf e a Luca Nastrangelo del nostro podcast Tutti i Teorici insieme ad un ospite d'ecezione cioè Walter Zenga e ho visto che comunque il video ha riscosso un discreto successo per essere comunque il lancio di un nuovo canale privo di iscritti vi lascio il link anche questa volta in descrizione per poter andare a vedere questo podcast della durata di tre quarti d'ora circa ricordatevi ogni 15 del mese alle ore 15, ogni 15 alle 15 così non vi sbagliate un episodio al mese in cui andiamo a intervistare un nuovo ospite dicevo tante critiche costruttive che mi sono piaciute perché sono tante cose che ci siamo detti dopo aver registrato il primo episodio tante cose che abbiamo già cercato di modificare durante la registrazione degli altri due episodi che sono già stati appunto registrati e speriamo di aver sistemato se non tutto alcune cose importanti per cercare di migliorare il prodotto sempre più ovviamente quella di ieri era puntata lancio pilota è qualcosa da sistemare per forza di cose doveva esserci allora ragazzi non sarà l'unica collaborazione comunque perché oggi registrerò anche un video in compagnia di Fabiana della Valle dato che ha aperto un nuovo canale youtube pure lei quindi faremo una chiacchierata che verrà strutturata sui due canali direi che domani uscirà il video qui sul canale se non uscirà domani sarà dopo domani e comunque ci sarà il doppio appuntamento insieme a lei e probabilmente andremo a registrare anche il primo video del 2023 insieme a Kino, Lello e a Davom dato che hanno chiesto di fare questa cosa insieme quindi probabilmente oggi ci sarà la registrazione anche di un altro contenuto che verrà pubblicato sui loro canali ma questa è una settimana importante non solo per i video su youtube che ovviamente sono per me cosa principale importante per voi cosa piacevole magari ma per la Juve inizio è una settimana anzi io direi un mese di fuoco per due motivazioni una in campo ok perché in questo mese e poi sarà bene o male il tema principale del video andiamo a affrontare diverse gare poi andiamo a fare un attimino il punto della situazione ma anche a extracampo perché comunque in settimana si deciderà se riaprire il processo legato alle plusvalenze comunque in settimana quindi tra due giorni verrà nominato il nuovo CDA e quindi abbiamo visto l'altro giorno Napoli-Juventus è stata l'ultima partita di Andrea Agnelli presidente della Juventus e invece Ferrero sarà presidente della Juventus a partire dal 18 e quindi la prima partita da presidente della Juventus di Ferrero sarà Juventus-Monza ok quindi si chiude una porta si apre un portone come si suol dire speriamo che questo portone possa essere positivo anche per i tifosi della Juventus dato che tutta questa situazione è iniziata in maniera burrascosa anche il fatto della nomina di Ferrero deriva da esigenze vere e proprie lo sappiamo l'abbiamo già raccontato mille volte speriamo che questa situazione possa accadersi al più presto perché ovviamente questo ha un impatto anche sportivo io ieri vi parlavo della figura di Massimiliano Allegri vi dicevo ragazzi parlare oggi dell'esonora conferma di Allegri in questo momento di caos legato alla Juventus sotto il punto di vista amministrativo ha delle ripercussioni sportive oggi leggevo che Gazzetta scriveva che anche Allegri e Cherubini sono sul patibolo possono essere giudicati ma secondo me questi sono discorsi oggi che non stanno in cielo di terra poi ribeto questa è la mia visione della situazione la Juventus che si ritrova con dei problemi ben più gravi da affrontare non credo che a gennaio sia lì a dire o però ma Allegri lo confermo oppure lo esonero oppure lo cambio oppure ne prendo un altro quelli sono discorsi che la Juventus inizierà a fare intorno ad aprile, maggio, giugno anche quando comunque la stagione sarà verso la fine anche sui rinnovi di contratto si stanno muovendo poco e niente perché si è mosso Danilo che è stato probabilmente l'unico rinnovo che in questo momento si vocifera veramente si parla di un quadrado che non verrà rinnovato ma anche perché nello scorso c'erano state un po' di problematiche legate al rinnovo di contratto di quadrado ricorderete la clausola, non clausola la discussione la trattativa un po' di nervoso tra le parti è comunque il quadrado che in questo momento è anche fuori dai giochi per infortunio e la Juventus che si sta interrogando in quella posizione cosa dovrà fare soprattutto se rimarrà con la difesa 3 e poi c'è Alessandro e faccio un po' fatica a dirlo nel senso che parlare di rinnovo di Alessandro un po' mi fa ridere ma sembra che ci sia una clausola anche qui simile a quella di quadrado a tot presenze stagionali di Alessandro scatta il rinnovo automatico per un'altra stagione vabbè cerchiamo di andare avanti perché questa indiscrezione perché non è una notizia non è confermata poi vedremo se sarà tale eviterei di discuterne di questa cosa però dicevo la Juventus ora si trova ad affrontare diverse gare che sono molto importanti secondo me e la più importante non esagero secondo me le due più importanti in realtà nell'arco del prossimo mese sono la prima e l'ultima che andremo ad affrontare da qui al 12 di febbraio perché la prima sarà Juventus Monza appunto giovedì scusate se guardo di qua ma c'ho anche il calendario sott'occhio da raccontarvi Juventus Monza 19 di gennaio Coppa Italia dico importante perché è probabilmente l'unica competizione che ci può dare un trofeo alla nostra portata perché in questo momento la Juventus può conquistare tre trofei il campionato che direi lasciamo la parte l'Europa League che direi in questo momento un po' ambiziosa poi vediamo cosa ne viene fuori e la Coppa Italia che è una coppa che comunque si può provare a vincere abbiamo la potenzialità per vincere una Coppa Italia basterebbe non sbagliare la partita della finale un po' come due volte è successo l'anno scorso perché fare un'altra stagione a zero titoli e ragazzi a zero titoli sarebbe ancora più pesante un titolo simbolico quest'anno avrebbe un'importanza rilevante un titolo l'abbiamo già vinto che è la YouTuber League la finale d'andata quella l'abbiamo portata a casa quindi speriamo di vincere quella di ritorno ma speriamo che anche la Juve prima squadra possa portarsi a casa a meno un titolo e quindi Juventus-Monzas diventa una partita molto importante decisiva per la stagione della Juventus perché immaginate un contesto in cui la Juve dopo un tracollo come quello che ha subito dal Napoli gioca allo Juventus Stadium contro il Monza da cui ha già perso in stagione e viene eliminata anche dalla Coppa Italia che è l'unico obiettivo davvero alla portata dopo essere già stata eliminata la Champions dopo essere lontanissimi da un discorso di corsa a scudetto già a gennaio provate a immaginarvi le crepe dell'inferno che si aprono e viene fuori di tutto e di più anche perché Monza è stata un po' secondo me il punto di non ritorno di tanti discorsi io avevo pensato di esonerare Allegri già un paio di partite prima di Monza dopo Monza c'è stata come si dice il fatto di comunicarlo di ufficializzare anche al pubblico il fatto che avrei cambiato allenatore e io ve lo dico sempre quando parli di cambiare allenatore quella deve essere una roba definitiva che difficilmente poi viene modificata l'unico motivo per cui ora e anche prima di Napoli vi ho detto è legittimo è intelligente tenere Allegri è legato all'extracampo ma sto parlando da qui a fine anno ovviamente perché ragazzi se salta anche l'allenatore in questo contesto secondo me diventa complicato anche perché cosa fai metti un allenatore a caso da qui a giugno tanto per quindi ne paghi un altro quindi vai a distruggere anche dei legami interni alla squadra cioè io io sono il primo che avrebbe cambiato Allegri dopo Monza in quella finestra temporale lo sapete bene ho battuto tante volte su quei tasti lì perché secondo me per la Juventus certe cose non erano accettabili ma probabilmente la Juve in quel momento non stava pensando al campo e credo che a maggior ragione non ci stia pensando adesso con una dirigenza tra virgolette improvvisata in questo momento che di sportivo ha ben poco quindi è un insieme di motivazioni che tornano dentro Monza tra l'altro importanti perché probabilmente anche perdendo questa partita eventualmente sarei qui a dirvi che avrei cambiato Allegri dopo Monza in campionato andata ma che probabilmente non avrebbe senso cambiarlo adesso non avrebbe comunque senso cambiarlo nemmeno eliminato dalla Coppa Italia ma non perché sia contento e soddisfatto dei risultati sportivi di Allegri perché quello era evidente già da mesi che ero abbastanza turbato dalla situazione Juve sia legato ai risultati sia legato a quello che vedevo in campo perché l'Allegri bis davvero poche volte mi ha dato la sensazione di aver raggiunto un punto veramente fisso un punto di stabilità veramente poche volte è proprio perché in questo momento Juventus ha dei problemoni che è un po' anche la motivazione che mi fa dire che difficilmente ci sarà mercato comunque queste sono tutte tematiche sono dubbi mie posizioni personali che vanno al di là della verità la verità la sanno gli addetti ai lavori Juventus spero che la possano sapere anche i giornalisti e quindi domani cercherò di riversare anche questi dubbi su Fabiana della Valle vedremo le varie risposte ma poi c'è l'Atalanta ancora allo stadium il Monza che torna ancora allo stadium a distanza di dieci giorni perché si giocherà la partita di campionato dato che Juventus Atalanta è la partita finale del giorno d'andata si comincia il ritorno con Juventus Monza poi andiamo a Salerno ambiente caldissimo caldissimo sarà una partita complicata forse tanto quanto quella in casa con l'Atalanta che ha distrutto comunque nello scontro diretto in Serie A e poi ragazzi Juve Fiorentina Juve Fiorentina facile no? partitina un po' così per concludere il discorso Juventus Nantes che è la partita di Europa League che anche qui vi dico immaginatevi il discorso di uscire pure dall'Europa League col Nantes non entrare nemmeno nella competizione in una stagione del genere quindi in questo mese ci giochiamo tutto perché questa è la stagione è il mese in cui ti fa capire se la stagione sarà da zero titoli o se la Juventus sarà la possibilità di andare avanti oppure no in altre competizioni immaginarsi una Juventus che gioca con Atalanta da Monza Salerintana e Fiorentina in Serie A io non credo che faremo 12 punti in queste quattro partite non credo che arriveremo a Juventus Nantes col bottino pieno in Serie A la qualificazione facile in Tasca e in Coppa Italia mi farebbe piacere sono un po' negativo perché perché probabilmente dico questo ma nella mia testa c'è un Napoli-Juve che ha lasciato delle scorie molto importanti e quindi per me Juve-Monza sarà un test interessante per capire se quella partita è finita oppure no perché spesso ho letto in queste ore la frase di Capello che dice meglio perdere una partita 5-0 che 5 partite 1-0 a livello matematico è vero è realmente così a livello psicologico e di impatto sulla testa dei calciatori può essere differente e la mia paura è proprio questa perché perché il secondo tempo di Napoli per quanto mi riguarda è preoccupante proprio non solo dal punto di vista tecnico ma psicologico perché ho visto una squadra andare completamente nel pallone con un aspetto completamente rinunciatario che è un po' il discorso che facevo anche nei vari video precedenti e cioè perdere si può ma perdere così no perché significa veramente averla alzato bandiera bianca e spero che la bandiera bianca sia stata alzata soltanto al Maradona di Napoli e non anche nelle partite successive sono sicuro che in conferenza stampa Allegri dirà il bello del calcio è che ci sono delle altre sfide subito dopo e puoi lasciare indietro quello che è stato poi subito concentrarsi su nuove partite io in realtà quel Napoli Juve lì non vorrei dimenticarlo vorrei veramente scriverlo su pietra caratteli cubitali non so se siete fan di One Piece scriviamolo su un pognegriff non dimentichiamocelo perché è una partita che deve lasciarci dentro tante cose che devono trasformarsi in rabbia nervoso e devono essere anche spunti di riflessione per il futuro per il futuro